Perchè il disegnino del mare? Perchè sono inverniglia. Perchè sono inverniglia. Perchè il disegnino del mare? Perchè? Perchè sono inverniglia. Adesso vi faccio un filmino. Potete fare quello che volete. Questo è il modello. Lei non vado a preparare l'acqua dov'è la pagher in pia. Proverete a pagher in pia? Non, non, non vado a pagher. Vincorso che stai a pagher in pia, ci sono inverniglia, questa domanda ti corroni in giorno, sei la mia prima casa, quando ti stai a pagher. Questa casa non sei, questa domanda, è la tua casa. no